Vendeva funghi scaduti e addirittura non commestibili, oltre ad una multa da 4.000 euro, ora una 45enne residente a Capannoli rischia fino a tre anni di carcere. L'uomo è stato pizzicato dagli agenti e la Guardia di Finanza della tenenza di Castelnuovo durante un controllo sulla regolare emissione di scontrini. Ma invece di imbattersi in eventuali inadempienze di carattere fiscale, gli uomini delle fiamme gialle hanno riscontrato problematiche ancora più serie, come appunto la vendita di funghi e di altri prodotti alimentari con un automezzo non idoneo al trasporto, tanto che molti di essi si presentavano in pessimo stato di conservazione e altri hanno scaduti da tempo. Il venditore ambulante si è beccato una denuncia alla Procura della Repubblica e sanzioni amministrative per un ammontare di oltre 4.000 euro, ora rischia fino a tre anni di reclusione. Non è la prima volta che i finanziari di Castelnuovo ottengono risultati nel settore della sicurezza alimentare. Alcuni mesi fa avevano denunciato un altro soggetto per la vendita di alimenti nocivi, dopo aver fermato ed ispezionato un automezzo di proprietà di una società esercente, il commercio all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande. Le operazioni avevano portato al sequestro di oltre 5 quintali di prodotti alimentari destinati al mercato locale, scaduti da diverso tempo, alcuni persino dal 2008, e alla sospensione dell'attività di deposito all'ingrosso di alimenti dell'impresa coinvolta nelle indagini.